Nel ricco tessuto della simbologia buddista, il nodo senza fine si distingue come un emblema di profonda saggezza e interdipendenza universale. Questo simbolo, caratterizzato da linee che si intrecciano senza inizioni fine, è molto più di un mero ornamento. È una rappresentazione visiva della natura infinita della realtà, un simbolo dell'eternità e dell'interconnessione di tutte le cose. Il nodo, un percorso senza inizioni fine. Immaginate il nodo senza fine come un percorso che si snoda senza inizioni fine, simile a un fiume che scorre in un ciclo continuo. Questo percorso rappresenta il ciclo eterno della vita, della morte e della rinascita, un concetto fondamentale nel buddismo noto come samsara. Come un fiume che scorre senza sosta, il nodo senza fine simboleggia la natura perpetua dell'esistenza e la continuità dell'esperienza spirituale. L'intreccio, interconnessione di tutte le esistenze. L'intreccio senza fine delle linee nel nodo rappresenta l'interconnessione di tutte le forme di vita e di esistenza. Come una rete che collega ogni punto con tutti gli altri, questo simbolo ricorda che non siamo entità isolate, ma parti di un tutto interconnesso. Ogni azione, pensiero ed esperienza è legato agli altri, come fili in un tessuto che si influenzano e si sostengono a vicenda. Senza inizioni fine. La natura dell'illusione. Il fatto che il nodo senza fine non abbia un punto di inizio o di fine visibile simboleggia la dottrina buddista della natta, o non sé. Questo insegna che l'idea di un sé permanente e indipendente è un'illusione. Come un nodo che sembra avere molteplici parti ma è in realtà un unico filo continuo. L'esistenza è vista come un flusso continuo di stati interconnessi piuttosto che come entità separate e fisse. L'armonia e l'equilibrio. Un percorso di meditazione. Il nodo senza fine è anche un simbolo di armonia e equilibrio. La simmetria e l'equilibrio del nodo invitano alla meditazione e alla contemplazione, guidando la mente verso uno stato di calma e concentrazione. Come un mandala, il nodo senza fine può essere utilizzato come oggetto di meditazione per aiutare a calmare la mente e a promuovere la comprensione profonda. Conclusione, il nodo senza fine, un simbolo di saggezza infinita. In conclusione, il nodo senza fine è un simbolo potente e significativo nel buddismo, che rappresenta la saggezza infinita, l'interconnessione di tutte le cose e il ciclo eterno dell'esistenza. È un promemoria che la vita è un intreccio complesso di esperienze e relazioni, e che la nostra comprensione e la nostra crescita spirituale sono un viaggio senza fine. Nel suo design semplice ma profondo, troviamo un invito a riflettere sulla natura dell'esistenza e sulla nostra posizione in questo vasto e interconnesso universo.